se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla, benvenuti in questo nuovo video allora regà, vi voglio far notare come sbloccare lo zaino di halloween ragazzi perché magari in tanti l'avete sbloccato e manco lo saprete allora comunque sia regà, per sbloccare lo zaino di halloween, quello con la faccina della zucca ok, vi faccio vedere comunque sia a fine video una volta che lo sblocchiamo bisogna semplicemente andare dal light regà e avviare una qualsiasi vendita può essere anche una vendita di 10.000 dollari l'importante è che consegnate qualcosa quindi a questo punto se volete farlo con i vostri amici potete farlo ragazzi quindi invitate chi vuole prendere con voi lo zainetto lo invitate nell'MC regà e andate a startare una qualsiasi vendita andate su vendiprodotti io per esempio ho 510.000 dollari di vendita va bene, è la prima volta che vado a vedere in sto account se c'era o no perché sinceramente raga lo volevo fare sul mio personale ma c'ho un light ancora da allestire quindi non l'ho fatto ho cambiato account e l'ho fatto su questo comunque sia a questo punto una volta startata regà dovete andare a consegnare a questo punto una volta giunti alla meta regà e spada bam andiamo a consegnare la merce e una volta che consegneremo la merce guardate bene in basso a sinistra ci darà un messaggino ragazzi ci dirà che abbiamo sbloccato zaino e cola guardate bene perché regà basterà solo fare una vendita e lo avrete tutti a questo punto lo troveremo direttamente da Amunation lo troveremo gratis ragazzi quindi ci teletrasportiamo subito da Amunation andiamo negli zaini e regà andiamo nell'ultimo e troveremo lo zaino di Halloween gratis ragazzi in tanti sicuramente l'avete già sbloccato avete fatto una vendita e non sapevate che era quello quindi se vi è stato d'aiuto questo video lasciate un like lasciate un commento supportate Exavix condividete e sbada bam alla prossima iscriviti al canale iscriviti al canale